Un grande gesto di solidarietà in un periodo difficile come quello attuale a causa della pandemia. Questa mattina infatti presso il piazzale esterno del pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, il dottor Alberto Albani, direttore del Dipartimento di Urgenza ed Emergenza della ASL di Pescara, ha ricevuto la donazione di una barella elettrica da parte di Laura Tiberi, infermiera ausiliaria presso lo stesso pronto soccorso del Santo Spirito. La donazione è stata fatta in ricordo del fraterno amico Mimmo Grosso, per tanti anni rappresentante e portavoce della marineria pescarese, recentemente scomparso, lasciando un grande vuoto in tutte le persone che lo hanno conosciuto. Alla donazione ha presenziato anche la moglie di Grosso, Marina di Vincenzo, alla quale il pronto soccorso di Pescara ha donato una targa ricordo. Anche grazie a questo generoso gesto, il ricordo del signor Mimmo Grosso resterà vivo nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuto e gli utenti del pronto soccorso, ha detto il dottor Albani, si gioveranno così dell'utilissima barella elettrica.